L'essenza di questo corso è spiegare come funziona la testa dei clienti, le diviazioni sistematiche dovute ai modi di aggiornare, ai modi di emozionarsi, che fanno sì che il comportamento abituale delle persone si discosti molto dai canoni della finanza classica. È un corso particolarmente impegnativo ed è sicuramente molto importante per la formazione del consulente finanziario, almeno per due ragioni fondamentali. La prima è quella di avere consapevolezza del funzionamento della mente dell'investitore ingenuo, cioè dell'investitore non professionista, comprendendone così le difficoltà nel capire i processi obiettivi, quelli formalizzati dagli economisti e dagli esperti di finanza nell'investimento. Il secondo aspetto molto importante è che il consulente che si sia dotato di queste conoscenze sarà in grado più facilmente e più efficacemente di essere in grado di controllare le emozioni dell'investitore e di indirizzarlo a meglio comprendere le strategie efficienti per gli investimenti. Sarà sempre più importante nel futuro avere delle conoscenze trasversali legate ad esempio capacità di lavorare in team, al problem solving, che sono e che diventeranno l'elemento chiave. A queste si dovranno aggiungere delle competenze specifiche, ma probabilmente queste competenze specifiche andranno aggiornate periodicamente e da questo il processo di lifelong learning. Per fare questo io credo indispensabile si debba lavorare sul tema della capacità di individuare e mappare in modo chiaro il percorso formativo, perché uno dei punti che credo interessanti è quello della progressione del proprio apprendimento. Se io sono in grado di capire dove sono arrivato, allora posso pianificare come migliorare il mio apprendimento. Se io non ho elementi di confronto difficilmente potrò migliorare. Allora su questi aspetti sicuramente c'è anche una convergenza con Professione Finanza, con il DNA che è stato sviluppato da Professione Finanza, che riteniamo interessante sull'aspetto di misurazione e quindi su questi aspetti vedo delle convergenze. Un'altra convergenza forte è quella legata al promotore finanziario e al ruolo del promotore editoriale. I due soggetti operano in un mercato in grande cambiamento, sia quello editoriale sia quello della finanza, lavorano e devono lavorare sul tema della fiducia e sul tema di una costruzione di un rapporto di lungo periodo e su questi aspetti, tornando al punto iniziale, le soft skills sono un elemento chiave, perché su questi aspetti si gioca sicuramente il successo per il futuro. Grazie a tutti.